Intro Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Super Mario 3D World Per un nuovissimo episodio Perfetto ragazzi bentornati su questo titolo Nello scorso episodio abbiamo completato il mondo 4 Abbiamo salvato anche la fata arancione E abbiamo raggiunto finalmente il mondo 5 Oggi ragazzi direi di partire con un bel livello di Todd Dai è Capitan Todd Capitan Todd è la casa dei fantasmi Guardate che bellino sto livello Devo poi riprendere anche il DLC che vi stavo portando sul canale Con i livelli extra di Capitan Todd Ok Questo mi sa che si può alzare Vai Capitano Stellina Devo recuperare 5 Stellina Ok non è quella porta lì è questa qua magari Sì direi di sì Poi facciamo così E Sono finito lì sopra Sono finito lì sopra Però Ok ho sbloccato quello Questo si sblocca Boh io provo a scendere Attenzione c'è un B Che ci vuole malissimo Ma Non posso ucciderlo con la luce Non posso ucciderlo Mi sa che l'unica strada che posso percorrere è questa qua Perfetto E il bue è anche sparito Allora adesso andiamo qua Terza stellina presa 4 e 5 Dovrei essere quasi arrivato Ok mi prendo anche il funghetto E poi devo tornare su E arrampicarmi da questa parte Perfetto Ce l'abbiamo praticamente fatta Ok ho preso anche l'ultima stellina Bravissimo Capitan Todd Livello abbastanza semplice Perfetto Mamma mia quante stelline Ok abbiamo sbloccato anche la bandiera dorata E allora passiamo da questa parte Con il tropico dei Coppa Per superare questo livello Voglio utilizzare Luigi Luigi time Let's go Allora vediamo se c'è qualcosa qua Mi arrampico sulla palma Non vedo l'ora ragazzi che arrivi l'estate Adesso purtroppo da me in questi giorni C'è un tempo bruttissimo Non sembra per niente che stia arrivando l'estate Sì perché mancano ancora praticamente un mese Al 21 giugno Eh te pareva Questo cosa caspita è No No vai 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 Volevo recuperare il guscio E qua e qua e qua e qua Mamma mia sta tornando indietro Mamma mia E ciao No vai 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 Ok meno male stavo per perdere anche Ehi la Cosa caspita sono diventato Intanto comunque ho beccato una Stellina Luigi è riuscito a sbloccare un nuovo costume Bello questo Guardate che casino che facciamo Ottimo E qui cosa c'è? Qui non c'è niente Non c'è Non c'è niente praticamente Va bene Ah mi ributto dentro Dobbiamo andare su Ok Vedi il traguardo? No No mi avete fatto perdere Cattivi Mi avete fatto perdere Quel potere spettacolare Qui c'è una Ah ma non posso scendere però Ah ok no Però posso fare un'altra cosa Intanto L'altra è qua Olè Mi sa che devo passare da questa parte magari Sì E siamo a quattro eh Non prendere fuoco eh Luigi No 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 Vabbè Ho pigliato una Una vita extra No Dai Non sono riuscito a prendere le ultime due monetine rosse Ah peccato Vabbè Mi tocca affrontare sti cosi Ok Ho preso Tutte quelle cosine lì Sì ma affrontarli senza Niente è dura Via 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 Sono tosti Sono tosti Dai ce l'ho fatta Incredibile Bravo Bravo mini Luigi No Ok posso Cosa Caspita sono diventato Ma no Sono diventato un fungo Ok ragazzi Allora Ho fatto pulizia Ho distrutto tutte le statue Ho distrutto tutti i nemici che c'erano in zona Praticamente la statua di Bowser Nascondeva un guscio dorato Che col pendolo Andando avanti Sbloccava sempre nuove monetine Qui dentro secondo me c'è qualcosa Solo che non possiamo entrare Quindi facciamo che andare dall'altra parte Al massimo Se non riesco a trovare tutte le stelline Darò un'occhiata Qui c'è un checkpoint Secondo me c'era un'altra stellina Là dentro O almeno il timbrino Ah saliamo a bordo del dinosauro Ottimo Evitiamo magari questi Solo Attenzione Ok Ok ma non c'è niente 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 Ah qui c'è il timbrino Perfetto Allora secondo me Là c'era Una stellina Sbrighiamoci Perché Rischiamo di lasciare indietro qualcosa Abbiamo lasciato indietro anche Un'altra stellina Quindi due stelline Abbiamo lasciato indietro Aia Che sportellata incredibile Allora Dove sono? No Non mi hanno fatto prendere la cima della bandiera Vabbè non importa Guardate che bello questo costume Comunque Molto molto bello Allora Devo capire dove sono Quelle due stelline Ok ragazzi Dai vediamo se riesco a Grazie Mi prendo il tempo extra C'è anche Capitan Todd Qua Ah eliminiamo tutti Sti coccinelli Ne manca uno Resisti Capitano Perfetto Sei salvo Dammi la seconda stellina Bravissimo Anzi no Questa è già la terza Dove caspita è la seconda Deve essere qui Da qualche parte Sicuramente Perché se quella lì È la terza Allora Intanto Ci prendiamo Questo Ragazzi Qua c'è un buco Però Aha C'è un tubo Aha Bravi Datemi una bella manina Ok No Mi ha fatto perdere Il potere speciale Vabbè pazienza A posto Ed ecco la seconda stellina Allora Devo tornare dentro Ok Per fortuna è ancora lì No perché sono riuscito a mancarla Ok Adesso l'ho presa Se mi si chiudeva il tubo alle spalle Era finita Dovevo rifare il livello Allora Prendo queste monetine E completiamo questo livello Ok ragazzi Ce l'ho fatta Bandiera Dorata Sbloccata E anche questo livello E anche questo livello L'abbiamo completato Al 100% E rieccoci qua Allora Allora Direi di passare al prossimo Potrebbe essere questo Il maniero acrobatico Oppure questo Oppure questo Vediamo come si chiama Due passi in compagnia Ma si vai di questo va Vediamo come è strutturato Userei però Pitch In questo caso 100 secondi Cosa caspita Devo fare Caspita Pensavo fosse Un po' più semplice Eccala Iniziamo già a perdere Cloni Ah qui c'è La bandiera Lì c'è una stellina Sì è un livello Molto veloce Allora Arriviamo subito In fondo Così ho già sbloccato La terza stellina E la bandiera dorata Perfetto Adesso rifacciamo Il livello Perché voglio cercare Di capire Che caspita Devo fare Ci tocca prendere Toad Però eh Mi sa Perché ho visto Un bottone Di Toad Adesso lo rifaccio Immediatamente Anche perché Come avete visto È velocissimo Come livello Dura solo 100 secondi Praticamente Dobbiamo stare attenti Più che altro A non perdere Nessun clone Allora Doppio Toad Qui ce ne servono Quattro però Di Toad Tre Ok Così non rischiamo Più Timbrino preso Sbrighiamoci Sbrighiamoci Ok Li ho avvicinati Tutti Qui ci prendiamo Questa stellina Mi chiedo dove sia L'ultima Però Caspita Non vedo Non vedo Più che altro Non vedo Eh ci tocca Ci conviene Finire il livello Per non perdere Una vita Non riesco a vedere La prima stellina Secondo me si trova Proprio all'inizio Inizio inizio Mamma mia Che generosi Ci hanno regalato Due monetine Perché avevamo avanzato Due secondi Rifacciamolo ancora una volta Lo so che sono ripetitivo Ma tanto dura poco Perché lo voglio completare Al cento per cento Non voglio lasciare indietro Nessun livello Deve essere proprio All'inizio inizio inizio Qua magari Perché se no Non ho la più pallida idea Di dove potrebbe essere Eccola Mamma mia Meno male Che mi è venuto il dubbio Di controllare anche Quel Pezzo di pavimento Rotto Allora abbiamo fatto Praticamente tutto Andiamo semplicemente A prendere la bandiera Ok Bravo Todd Tanto la bandiera Dorata L'abbiamo già sbloccata Meno male Che ho controllato Il pavimento Nel punto in cui Era rovinato Perfetto Perfetto Rieccoci qua Salvataggio completato Ci buttiamo dentro Al tubo Andiamo da questa parte E diamo un'occhiata Dentro la casetta A forma di fungo Cosa c'è Pacchetto piccolo Dai No Speravo in qualcosa Di meglio Toadette Mi hai un po' delusa O Todd Viola Mi hai un po' deluso Speravo in qualcosa Di meglio Va bene ragazzi Direi che possiamo Terminare anche Questo episodio Di Super Mario 3D World Qua Abbiamo completato Alcuni livelli Adesso nel prossimo Proseguiremo La nostra avventura Su questo titolo Quanti ce ne mancano Uno Due Tre Quattro Cinque Sei E poi il castello Ok Un po' di livelli Come sempre ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E ci vediamo In un prossimo Episodio Sempre qui Su Super Mario 3D World Alla prossima ragazzi Upton E ci vediamo